buongiorno amiche ed amici siamo al 7 gennaio 2016 e siamo ormai pienamente nel nuovo anno volevo dire a tutti quelli che vedranno questo filmatino di ricordarci che il 23 il 24 parlavamo di obiettivi l'anno prossimo farò dirò riuscirò a fare questo mi impegnerò a fare quello adesso siamo nel 2016 impegniamoci a fare questo e quello è non non dimentichiamo tutti gli obiettivi che c'eravamo dati e oggi mi sono controllato il peso e poi dopo metterò la foto del della bilancia avevo recuperato un chilo prima delle feste durante le feste sono riuscito ad essere così bravo a rimanere focalizzato che il chilo che avevo recuperato l'ho perso di nuovo sono di nuovo 87 qualcosa quindi sono di nuovo in carreggiata sono a 10 kg meno di quando avevo iniziato con questo voglio fare un grande abbraccio a tutti quelli che mi guarderanno augurare veramente di cuore un ottimo anno e ricordatevi che per essere migliore dell'anno scorso quest'anno non dipende dall'anno dagli altri dipende da noi come lo affronteremo cosa faremo quanto impegno ci metteremo e quanto cuore e con questo vi auguro di nuovo un buon anno buona giornata a tutti e tenete sempre presenti i vostri obiettivi ciao